Miau! Oh, pera di servizio a carrovolta! Io posso essere servizio per... PTR! LOL! Ma non so se ci lavoriamo! A frontura! A piezo cake, LOL! Questa è merda, no! Oh, stiamo vincendo eh! Loro hanno 24.000 ziche! Oh, c'è un altro carro, qualcuno è morto! Tu ma, spawna su di me e prendi il carro per l'altro! Siamo suggeriti! Sì, anche perché lì è impossibile da prendere per la posizione! Ma come fa? No, ma ragazzi, ma come città? Cioè... Ah, sì, sono tutto... E mi sciolto a due chilometri con la mano! Eh, ma oggi c'è che me è provato! Così è! Io non... Oltre 20 metri non prendo nessuno! Ho fatto una cosa come dieci esplosivi distrutti! Oh, ma che foto! E mi ha trasciolato! E mi ha trasciolato! Oh, buffi! Ci sarà un elicottero lì, vedi? Ho fatto drift, ragazzi! Grazie a questo caso! Sì, si... BATTEFILT! BATTEFILT3 E DRIFT! Sì, cammino sempre per i muri, vuol camminire vostro carro! Sì, cammino sempre per i muri! Corri... Io vado a sciuare, chi è che stanno andando a sciuare? Io! Mamma mia, ma tutti i muri sono andati! Ma che c'è, perché ci sono? No Patti, non ti è uscito? Mi ha buttato l'uomo Ah no Qualcuno ha fallato su 3DFG Cosa? Fallato su 3DFG Sì, non installato ma ce l'ho L'hai mai trovato? Sì Mi hai grassato No Non mi grassa te Volevi cquattrarmi Mi piace molto col BDL Troppo il lento del sordo Perché non c'è l'unico? Anche a molti membri C'è un problema che io Ah, è arrivato Marco Poi dopo Poi dopo Poi dopo Poi dopo il gioco Sì, certo, certo C'è un problema che non è compatibile con Windows 7 C'è un problema che Non c'è soluzione Però se finisci il server Non c'è soluzione Non c'è soluzione Non c'è soluzione Però se finisci il ticket e entri Perché non formati il PC Se off-cat per il PC Quale è Puoi sbloccare la tua squadra C'è lì No Se se la passa una volta Questo non è il problema Ehm Poi l'hai pulato la tua Ho sceso Ho sceso 1 Aspetta che ci sono Puoi sbloccare la squadra Della scala No Ora che le devi finire tutti i ticket Batta Ho capito Marlo Non mi unisca il compagno perchè non vanno No, non c'è pure un mappetizio Arrivo con la mano Oh, non devi far mani Non devi far mani, non devi far mani Bello screenshot Infine Bello Oh, e qui si Entra là dentro e devo fare lo screenshot Bambucco Combarcate quel cazzo di petto L'obiettivo è stato preso Esatto Copritemi su, eh che mi stava riparando il PTR Si muovi Chi è che me lo ha fatto? Chi è che portate? Ragazzi, il tuo è servato? Adesso non è dentro Sì, io non so Chi è spento? Chi fa? Ma quello là Sono decisamente fottuto 4 Chi è che mi aveva ripreso Cambiamo Sto Sto rimettendo a posto il VTR Vai Gasta Di fianco Di fianco Di fianco 50 Il VTR Grazie a tutti.